Un giorno un ragazzo si sveglia dopo un incidente e scopre che non muoverà più le gambe E ho appreso che non avrei più mosso le gambe Qualche anno dopo quel ragazzo è aleman davanti a 100.000 spettatori per correre la gara della vita L'avresti mai detto? Penso che è una cosa veramente romantica Bravi Loro si che sono campioni Sono delle persone da ammirare, sono eroi La passione che ti porta oltre Oltre Faccio la cosa più bella per me al mondo Qui riusciamo a esprimere la nostra passione Una sensazione unica Mi ricordo che dentro il casco piangevo Mamma mia che emozione, un'emozione incredibile Guarda qua, sono rimasti tutti qua per noi Non lo so, è indescrivibile ragazzi Che emozione, non so che cosa dire guarda Mi sono veramente emozionato Non lo so, è indescrivibile ragazzi Non lo so, è indescrivibile ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti